mancano tre minuti alla partenza il mio treno forse ce la faccio che belli display che bella la stazione centrale di milano favolosa ecco qua al display tirano mancano tre minuti sono in anticipo oggi vado e valtellina poi si vedrà in treno dove scendere mancano tre minuti alla partenza tutto bene guarda in alto la stazione centrale il treno è nuovo è molto caldo comodamente si può guardare lo smartphone e sentire le notizie della tv senza rimanere in casa passivi seduti su una poltrona ma intanto viaggio e capisco sempre le notizie anche se viaggio non perdo tempo la mia vita non stop ecco che bello il treno che va in valtellina e val chiavenna poi vedo dove scendere oggi adesso l'importante è salire mancano due minuti due minuti io salgo all'ultimo minuto sì con comodo ma che bella la vita che bello viaggiare che bello viaggiare che bello ecco qua in prima classe mi hanno già sgridato no vado questo scompartimento qua davanti se il primo vagone qua in prima classe ecco che arrivo in seconda tra poco salgo aldo il girovago ciao ciao benissimo benissimo sono arrivato sono arrivato ecco il mio posto ecco il mio posto sono arrivato in treno ok bene